Per dire che stai per noi eravamo veramente l'opposizione, eravamo moltissimi alla luce, sempre scusate, sempre, quando siamo arrivati al programma infatti entrambe eravamo in quel modo. Poi ragazzi, la prima esterna qualcosa è scattato già subito, una chimica proprio strana. E poi, per un canale del tempo, il programma sicuramente non ci permetteva di vederci sempre, quindi questa cosa che sta arrivando più fuori nostro trono è durata otto mesi, quindi non c'è un'idea, insomma, al momento che abbiamo avuto questo sogno, non è per le quali per fare un bambino, perché noi siamo fatti molto per l'altro, cioè, noi stiamo... E' di aspettare tempo, no? Sì, certo, no, perché l'abbiamo capito, eravamo noi, siamo noi, e per questa la vita saremo noi. Vi è detto un sospeso anche di questa coppia, ma davanti a noi, stiamo per scoprire chi cosa arriverà? No, 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 no. Allora, sei pronta? Sì. Sei carica? Sì. Un sospeso anche di questa coppia.